Signore e signori buon pomeriggio, ci troviamo allo stadio comunale di Miglianico per il secondo torneo di calcio giovanile città di Miglianico, riservato ai primi calci e piccoli amici. Qua il gruppo della Virtus Castelfrentano, i nostri baby atleti, sono i primi calci, c'è Miss Anna Rita Valente, c'è Mr. Gabriele che è anche il coordinatore della scuola calcio settore giovanile, qua il gruppo di primi calci. Sto biontino come si chiama? Damiano, è bravo Damiano, te come ti chiami? Mattia, a posto, e Carol dove sta? Sta all'altro lato? Ah Carol sta qua Carol, a posto. Ok, allora alzatevi che si cambia postazione ragazzi, alzatevi che si va su un altro campo, ecco ci troviamo, qua ci sono molte società partecipanti. Ecco, qua vediamo le mura perimetrali del cimitero, gruppi di società. Campo 1, Miglianico e Castelfrentano, mettiamoci pronti per favore. Ok, allora pronti. Campo 2, Maiella-Miglianico, Maiella-Calcio-Miglianico. Campo 3, Casali in Gamba, Ripa 2006. Ecco i nostri ragazzi che si stanno preparando per la gara di sedizione. E' un'altra squadra. Io non uso. Io di Bala. Allora, uno, due. Allora, tu centrale dietro, tu centrale, esterno, un altro esterno, mi serve? Che è il pallone nostro quello là? Basta esterno? Sì. Anche il pallone nostro? Sì, ma io centro l'antico. No, non è il pallone nostro. Guarda, se sbaglio, rete-rete. Rete-rete-rete. Seconda squadra, il centrale dietro è Emanuele. Io da Agra. Luca, esterno, destra. No, facciamo nome. Esterno, destra. Luca.